Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Un taglio, provocato mentre usa un coltello, in cucina. Dopo pochi giorni muore. Ecco cosa è successo a una donna di 51 anni. A tanti sarà capitato in cucina, o in altri ambienti, di tagliarsi mentre si usa un utensile. A questa donna, di 51 anni, è capitato in cucina. Si è tagliata mentre usava il coltello per preparare cibo in casa. Un mese dopo quell'incidente domestico, che inizialmente sembrava davvero innocuo, è morta. Ecco il motivo. La signora Mejabin Ibrahim Rashi, una donna britannica di 51 anni, come riporta fanpage.it, aveva deciso di medicarsi da sola senza richiedere alcuna assistenza medica, perché sembrava un taglio banale. Quel taglio, però, purtroppo, si è rivelato fatale e l'ha portata fino alla morte. Un gonfiore evidente alla mano e altri disturbi hanno allarmato poi la signora. La signora Mejabin Ibrahim Rashi ha avuto un'infezione che non è stata curata e si è trasformata in sepsi con conseguenze mortali. La 51enne è deceduta venerdì scorso all'Astrowale Infirmary, dove era arrivata pochi giorni prima. All'arrivo in pronto soccorso, le sue condizioni però erano apparse già subito molto gravi. Nonostante l'immediato ricovero in terapia intensiva, le sue condizioni sono ulteriormente peggiorate ed è morta in pochi giorni. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.